ST Sicily sta per Service Trade o Stage in Sicily o Social Tourism in Sicily, proprio a sottolineare le tre anime dell'azienda che sono Consulenza, Formazione e Turismo. Crediamo fortemente che possiamo aiutare le aziende siciliane a internazionalizzarsi attraverso il supporto degli studenti che vengono da tutto il mondo e attraverso una metodologia che abbiamo sviluppato internamente che prevede l'utilizzo dei social network e di internet e il supporto degli studenti in se stesso. Abbiamo sviluppato un progetto e un marchio che si chiama Internship Camp. Gli studenti vengono qui a farsi un'esperienza, stanno qui per un periodo di due o tre mesi, aiutano le aziende a internazionalizzarsi e nello stesso tempo vivono un'esperienza non solo di lavoro altamente professionalizzante ma anche e soprattutto di vita, quindi promuovono il turismo, si parla quindi di sviluppo sostenibile, e di promozione del territorio. Sono stati tutti selezionati attraverso interviste video, abbiamo avuto oltre 300 richieste, abbiamo preso soltanto 50 studenti proprio perché in questo momento abbiamo bisogno e cerchiamo altre aziende. Le studenti hanno due tipi di età, 20-23 anni per lo studente di primo livello e studenti di oltre 25 anni che sono già laureati vengono a fare un'esperienza di lavoro come team leader, quindi organizzano i progetti. Al termine di questo stage verrà rilasciato tutti un attestato, di sicuro si porteranno a casa un'esperienza di lavoro e di vita. Sono Abigail G. Laurent, vengo di Francia, nel nord. Siamo molti ragazzi che vengono di Francia ma anche di altri paesi, per esempio lui viene di India e lei è di Marocca e di tanti altri paesi. È una bella esperienza, moltissimo bella e facciamo molte cose che non facciamo prima e quindi è buono per adesso ma anche per il futuro. Abbiamo imparato le lingue prima perché è essenziale di venire in Italia e parlare italiano, ma anche l'inglese e delle cose del lavoro perché siamo studenti quindi non facciamo questo alla scuola e quindi facciamo delle cose del lavoro.